Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda di un chilometro per incidente tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla Firenze Mare scende a due chilometri la coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili restano code per lavori tra Empoli e San Miniato per chi viaggia in direzione mare. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. L'Eurostar Frecciarossa 93-12, Salerno Torino Porta Nuova sta viaggiando con 44 minuti di ritardo. Il transito a Firenze Santa Maria Novella al momento previsto alle 11.20, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.